E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Aftersade Crypto Io sono Emiliano e anche oggi tra il nostro consueto Morning with Crypto L'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato Con quello che è successo nella notte andremo a commentare quello che sta accadendo al prezzo di bitcoin Al prezzo del coin dinosauro che continuano a crescere in maniera molto importante E soprattutto Michael Saylor che non si ferma e acquista ancora qualche bitcoin a caso con qualche soldino rimasto in tasca Non lo commenteremo tra poco Come sempre prima di partire il primo invito è uno quello di lasciare un bel mi piace Qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento A me metto attanto col canale e se siete nuovi ricordate di iscrivervi col clic sulla campanellina Per rimanere sempre aggiornati insomma sapete quanto sia importante rimanere sul pezzo in questo settore Perché chi dorme insomma qua dentro poi si sveglia in fomo e fa gli errori più facili che può fare Detto questo ragazzi vi ricordo anche di dare un'occhiata ai link che trovate qua sotto in iscrizione Con le principali promo del settore perché sono in esclusiva con noi grazie al vostro supporto Quindi questi partner che utilizziamo anche noi personalmente ci forniscono queste promo appunto grazie alla community Detto ciò ragazzi partiamo perché abbiamo un sacco di cose da dire Partiamo proprio da Michael Saylor di cui parlavamo un po' nell'intro Cioè ha annunciato ieri un'altra acquisizione di altri 15.400 bitcoin per un miliardo e mezzo di dollari cash A un prezzo medio di acquisto di 95.976 dollari quindi praticamente il prezzo attuale 96.000 dollari Andando a detenere ora 402.100 bitcoin acquisiti per 23.4 miliardi di dollari A un prezzo medio di 58.200 dollari circa per bitcoin E a questo punto voi capite che il giochino continua a essere diciamo in auge e continua a spingere in base a cose In base sempre a questo meccanismo di convertible notes quindi di prestito che viene fatto da potenziali acquirenti di azioni micro strategy Che continuano a finanziare questa attività e questa attività ne parlavamo già precedentemente Sta premiando insomma da un punto di vista in termini di prezzo per micro strategy che in borsa abbiamo visto schizzare Alle stelle anche se si tratta comunque di una diluizione ok di azioni di stocks per questa compagnia E questo modello ne parlavamo potrebbe essere copiato potrebbe essere integrato anche da altre aziende Principalmente magari da aziende che riguardano il mondo cripto E infatti c'è stato ieri l'annuncio di Mara Holdings che appunto sono company riguardo al mining Che è andata a fare una cosa uguale cioè hanno annunciato la private offering allo 0% di convertible notes Per 700 milioni più 105 milioni in option appunto per andare a fare che cosa? Per acquisire in maniera prioritaria bitcoin e appunto e poi andare a ricomprare le sue notes nel 2026 fino a 50 milioni Insomma stanno vedete andando a fare dei meccanismi molto simili che possono essere interessanti Allo stesso tempo a me preoccupano sempre un pochettino perché si crea un po' di leva ok su questo discorso qua Ed è ovvio che si accentra molto questa pratica Vedremo sicuramente in questo momento abbiamo visto anche da sailor proprio andare a spingere in maniera molto forte E andare a fare quasi degli all in su queste notes Però insomma lascio a voi qua sotto nei commenti dirmi la vostra cosa ne pensate Un'altra cosa invece che è importante sottolineare ed è un po' quello per cui si parla di come queste altcoin stiano andando a performare Sono, è la domanda diciamo che un po' tutti si pongono Cioè da dove deve arrivare la liquidità per far salire queste altcoin? Bene in realtà i dati parlano chiaro ok? Sempre dati alla mano senza fare le predizioni della sfera di cristallo Praticamente lo vedete qui questo è il volume aggregato per le altcoin con la coppia BTC Quindi quanto effettivamente ci sia scambio tra bitcoin e altcoin e quanto effettivamente invece ci sia questa quote riguardo appunto stablecoin E vedete bene come nel ciclo precedente cioè nel 21 ad esempio 22 Sì c'era comunque scambio con la coppia stablecoin ma c'era anche parecchio scambio con la coppia bitcoin Attualmente siamo ai minimi cioè non c'è rotazione da bitcoin ad altcoin Ma effettivamente quelle che stanno entrando sull'altcoin sono liquidità fresca, liquidità nuova che arriva direttamente alle stablecoin Ora questo non ci esula dal poter pensare che ci sia una magari vendita bitcoin, usdt, usdt entro in un altcoin Ma comunque sappiamo che molti dei trader che vanno a operare con le rotazioni da bitcoin ad altcoin Hanno sempre sfruttato la coppia bitcoin ad altcoin anche per risparmiare in termini di commissioni banalmente Cioè vado a utilizzare queste coppie qui che comunque tendenzialmente garantiscono anche una buona liquidità In ogni caso tanto non è perché lo vediamo appunto dai dati e quindi sono soldi freschi che stanno entrando Soldi freschi che però il governo americano inizia a muovere Cioè nel senso che ha spostato 10.000 bitcoin nella giornata di ieri per un quantitativo di quasi un miliardo di dollari A Coinbase Attenzione perché sappiamo che sono gli ultimi giorni insomma dell'amministrazione di Biden E può andare a fare un po' di danni magari a quelle che sono riserve di bitcoin un po' per intralciare un po' i piani Ecco non è un quantitativo elevatissimo Sappiamo che gli ETF in questo momento stanno comunque continuando a comprare Guardate 330 milioni nella giornata del 29, 353 nella giornata di ieri Quindi capite che un miliardo a questi livelli lo ha fatto solamente il 21 di novembre Ok quindi se così proseguono i flussi non è tanta roba Però comunque ricordatevi sempre che ci sono comunque stati che hanno detenzioni importanti Ed è sempre quello il discorso quando c'è un accentramento di giacenze su una sola entità È ovvio che poi questa diventa abbastanza pericolosa in alcune situazioni Quello che invece vi ricordo e trovate qui sotto in descrizione Afterset Exclusive la paginetta dove vi andiamo ad inserire tutte le promo più interessanti del settore Avete Bybit, Avete Bitgate, Avete Bing, Inserite un po' di tutto E trovate qui sotto linkate e soprattutto Bybit in questo momento è quella più ghiotta Perché vi dà ancora per 15 giorni 500 dollari di posizione airdrop Per chi si registra da questo link c'è anche la promozione cumulabile con i siani di Bybit Che vi airdroppano un sacco di roba Vi lascio andare a vedere poi una volta registrati da qua Solana, Ethereum, Bitcoin, Pepe, Doge Insomma potete sfruttare la volatilità e tutti i profit ve li tenete voi Con un primo deposito di 100 dollari viene airdroppato Quindi non dovete fare altro Tutti i profit appunto li potete ritirare Eventuali perdite le copre Bybit con questa posizione gratuita Quindi secondo me è sempre estremamente interessante Tra dare con soldi gratis Benissimo, andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore Iota che fa un altro 45% Edra che fa un altro 41% Ondo un più 36 Kaio un più 36 V-Chain un più 32 Chainlink un più 28 Jasmine un più 26 Sandbox un più 25 E via discorrendo Zcash, Flare, Quant Lo vedete sono tutti i nomi in realtà dei cicli precedenti Iota, Edra, insomma nomi che erano entrati nel dimenticatoio E magicamente stanno tornando in auge Che cosa significa questo? Questo significa a mio parere che c'è molta attenzione da parte di investitori Che erano già nel settore I nomi che già conoscevano e stanno ritornando a inserire capitale I losers chi sono? Non ce ne sono perché abbiamo Itena un meno 3 Ma con un più 33 settimanale Casper un meno 2 Un con un più 5 Doge un meno 1 Con un più 4 Iots un meno 0 6 con un meno 4 Con un più 49 Quindi è che losers non ce ne sono Come vi dicevo State attenti perché la formazione di Bitcoin è estremamente bullish A mio parere Poi ovviamente io sapete che non vi dico cosa perfettamente accadrà Perché purtroppo a serie che stanno non la ho Però tutta questa lateralizzazione sul top È ovvio che sia un'azione dove i bears sono in difficoltà Nel rigettare il prezzo Perché ogni, lo vedete, questo scarico Ci sia stato Lo scarico più importante è stato questo meno 5% Del 25 di novembre Poi è stato ricomprato in maniera abbastanza veloce e aggressiva E stiamo mantenendo bene la 12 ema La 26 ben spiegata a rialzo La 50 ben spiegata a rialzo Diventano magnetiche Diventano medie Che supportano E ci danno l'idea del trend attuale E nomi anche interessanti Lo ripeto sempre Anche DOT ad esempio Da dove è partito questo pump È stato fatto un'ottima percentuale State attenti perché Perché per darvi nomi Ok un più 178% Quasi un per 3 Ma il discorso qual è State attenti sempre ai nomi che vanno in FOMO Perché a darvi Ripple a 2 dollari e mezzo Che dite Nel senso Ma si può continuare a salire Si può continuare a salire Ma ha un'iperestensione Che insomma Mi viene più da cercarmi uno short Sinceramente Più che andare a allungare quel nome lì Ovviamente non sono consigli trading Nei finanziari Però appunto State attenti perché Se gli dino coin O con quei nomi del ciclo precedente Stanno andando ad outperformare Qual è il prossimo? Ve lo lascio Immaginare a voi E chiaramente la room di salita È molto importante Lo vedete C'è tanto tanto spazio qua Ok? Tanto 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 spazio L'abbiamo visto anche su Link Andrà a performare molto bene Stessa cosa Lo vedete Queste rotture rialziste Molto forti E anche Link Dopo questa formazione Sta già outperformando In maniera abbastanza veloce E aggressiva Ci sono tanti nomi Ok? Da poter valutare E sono secondo me Più interessanti in questo momento Piuttosto che inseguire Nomi che hanno già fatto Delle percentuali Molto forti Perché poi i fondi In questo caso Sì che ruotano Perché vanno a essere presi profitti E a ruotare su Magari nomi ritardatari Esempio anche nomi nuovi Come sei Formazione molto interessante A mio parere Che si sta andando a formare È ovvio Se Bitcoin dovesse scaricare A doppia cifra È ovvio che ragazzi Non è che queste qua tengono Però in questa condizione Con Bitcoin che lateralizza sul top È molto interessante E la Dominance Che continua a collassare Ed è questo Ve lo dicevo già Un paio di giorni fa Il momento Di andare A valutarle Le Alcoin Nel momento in cui vediamo Una correzione Forte e aggressiva E con ormai Un cambio trend Abbastanza annunciato Perché anche se ci fosse Un bounce back Difficile Insomma fare un V-shape recovery Con una Diciamo Leg down Ed è quasi il 7% 6-7% Dal top Che è stato fatto Sulla Dominance Quindi Questa è un po' L'analisi Della situazione attuale Detto ciò ragazzi Non voglio aggiungere altro Ovviamente ci sarà necessità Arriverò a voi Con un altro update Ovviamente Come sempre Mi seguite Su tutti i social Non lo so Se non lo fate Date un'occhiata Ai link Che trovate Con le descrizioni Quei canali Telegram Tutte le promo Intanto vediamo tutti Una splendida giornata E noi ci vediamo prestissimo Con un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti